ciao a tutti amici e benvenuti oggi parliamo di blender una cosa molto semplice come mappare un'immagine che abbiamo realizzato png con fondo trasparente e utilizzare il canale alfa dovevo inserire un logo parte l'ho ricostruito in 3d e siccome poi lo vedevo solo frontalmente ho utilizzato questo sistema per fare una cosa più veloce come vedete ho realizzato alcune righe colorate le ho fluidificate per ottenere questo disegno mentre dall'altra parte ho fatto una cosa un po' più concreta questo ingranaggio con alcuni colori ecco ho salvato queste immagini come png con fondo trasparente come vedete e ora entriamo in blender tutorial di franco allora adesso vi faccio vedere due opzioni una semplice una un pochino più complessa allora la prima opzione è quella di importare questo disegno con il fondo trasparente operazione molto semplice ma bisogna attivare alcune cose aggiungiamo un piano e poi andiamo semplicemente sul materiale assegniamo un nuovo materiale qui clicchiamo e andiamo a selezionare image texture sull'image texture facciamo open andiamo a selezionare il nostro disegno fatto in precedenza e ad esempio prendo la ruota colorata e come vedete abbiamo la ruota colorata però con il fondo nero di background adesso vado ad aggiungere un altro oggetto per farvi vedere appunto la trasparenza spostiamo questo oggetto qui e mi vado a segnare un colore ruotiamo questo rx90 invio e come possiamo vedere appunto è opaco adesso andiamo sul lato shader quindi clicchiamo shading e come vediamo l'operazione è semplicissima perché già dal materiale di base è segnato alfa per cui se la nostra immagine quindi è png aveva il fondo trasparente è sufficiente collegare alfa con alfa ma come vedete non vedrete nulla perché perché se ritorniamo sul materiale dobbiamo scendere giù e su setting vedete che c'è scritto blend mode opaco quindi questo materiale risulterà opaco sarà sufficiente modificare in alfa clip per avere la nostra trasparenza infatti vedete che ora il buco possiamo vedere attraverso e ovviamente adesso questa figura può essere modellata come si vuole quindi se entriamo in edit possiamo fare delle suddivisioni ecco e vedete che la nostra figura ovviamente segue le deformazioni che facciamo ovviamente questa figura è piatta non potete estruderla perché estruderebbe solo i bordi che toccano il mio quadrato vedete che viene fatta l'estrusione ma sono solo questi pezzi che vengono estrusi perché non bisogna farlo con le immagini ma deve essere fatto con un altro sistema che poi eventualmente vi spiego quindi cancelliamo questo stessa cosa volevo farvi vedere si può fare anche su una superficie che non è liscia ad esempio la superficie che non è liscia ad esempio la sfera andiamo a creare un materiale vado come prima posso inserire l'image e texture sullo shader che qui è indifferente io lo faccio qui perché faccio prima vado a selezionare questa volta il secondo mio disegno che è più carino da vedere cioè questo qui vedete è opaco vado a trascinare come prima l'alfa e vado a inserire alfa clip e come vedete ho il mio oggetto trasparente è una cosa molto simpatica in più se premiamo CTRL T ricordatevi che abbiamo la possibilità di avere gli altri nodi per mappare bene sull'oggetto la dimensione la posizione queste cose qui quante volte viene ripetuto la mappatura e anche la rotazione e quindi se andiamo a vedere come vedete possiamo ottenere degli oggetti molto particolari premendo facendo un render ecco vedete che bello oggetto adesso è squadrato perché non ho fatto lo smooth però potremo creare degli oggetti particolari con pochissimi passaggi poi magari questa texture può essere montata sopra un altro oggetto invece come facciamo a inserire e qua ci addentriamo nella seconda parte un pochino più complessa ma diciamo altrettanto semplice andiamo a fare new e inseriamo sempre un oggetto qualsiasi io lo farò su una sfera perché è carino eccolo qua io voglio inserire il mio oggetto solo su una faccia di tutta la superficie e questo potete farlo anche con forme complesse con qualsiasi cosa andiamo a mappare la texture però sempre con fondo trasparente quindi facciamo così avremo bisogno di aprire più finestre perché l'operazione richiede di saltare da una finestra all'altra quindi io vado a aprire qui e apro una seconda finestra terza finestra ecco qua e quindi una la lasciamo sulla vista 3d una la spostiamo cliccando qui in alto sullo shader e un'altra qui la spostiamo scusate la spostiamo sulle v mapper sulle v editor eccolo qua quindi prima di tutto andiamo a segnare un materiale ritorno fuori normale clicco qua new e ho assegnato materiale se vi do un colore posso eventualmente anche vederlo ecco qua e come vedete qua abbiamo il nodo del colore che ci si è creato facciamo come prima andiamo a aprire un'immagine questa volta lo facciamo da qua clicchiamo shift a e cerchiamo image texture eccolo qua andiamo su open e riapriamo il nostro oggetto io riprendo di nuovo la ruota dentata adesso dobbiamo creare l'ubimapping di tutta la sfera quindi entriamo in edit selezioniamo tutto e premiamo un wrap e come vedete abbiamo tutta la griglia che rappresenta le facce della sfera quindi ci spostiamo su questo lato premiamo A selezioniamo tutto con S scale andiamo a ridurre tutta questa superficie che rappresenta la sfera e con G andiamo a posizionare questo in un punto dove sia trasparente dove ci sia tutta trasparenza in pratica andiamo a impostare tutto questo materiale della sfera come trasparente questo è l'accorgimento adesso selezioniamo solo la faccia dove vogliamo mappare la nostra immagine quindi passo in faccia e seleziono ecco ad esempio io voglio la mia ruota dentata su questa faccia premo di nuovo U come un wrap clicco e questa parte qua che viene selezionata rappresenta solo la faccia questa volta se io voglio posso andare anche ad aggiustare i punti in maniera che la mia figura cada dentro perché ovviamente qui siamo in prospettiva e questo non è un quadrato è una specie di trapezio quindi clicco sul singolo punto e con G lo sposto in maniera lo stesso faccio con l'altro lo stregno G e lo sposto e così via con l'ultimo G e lo sposto non si vede niente perché dobbiamo collegare il colore con il colore cosa succede? succede come vedete ora vediamo la nostra figura mappata su quella faccia come abbiamo visto però tutto il resto della sfera è nero perché abbiamo mappato una superficie trasparente e quindi risulta nera quindi abbiamo ottenuto il nostro scopo ma non abbiamo più un colore del materiale per far questo facciamo così andiamo a aggiungere un nuovo nodo quindi SHIFT A e cerchiamo MIX RGB eccolo qua da MIX RGB ci portiamo ALFA su e lo colleghiamo in FAC invece il colore che era collegato qua lo scolleghiamo e lo colleghiamo su colore 2 perché colore 2? perché andrà a sostituire questo che c'è sul mix e da qua lo spostiamo giù sul nostro colore di base cosa è successo? praticamente adesso abbiamo assegnato il colore che viene qui a tutto il resto della superficie se infatti vogliamo modificare il nostro colore sarà sufficiente cambiare il colore qua vedete che abbiamo la modifica del colore e abbiamo finito se guardate non è difficile qua potevamo unire con T tutta per mappare bene la dimensione eccetera comunque vi consiglio di non toccare perché andrà a toccare anche il resto dell'oggetto intanto esco dall'edit e rendo questa superficie smooth così ho tutto uniforme spostiamo un attimino questa luce ecco vedete la superficie spostiamo un attimo la camera che è in mezzo ecco qua possiamo vedere che se andiamo sul materiale adesso abbiamo comunque tutte le possibilità di modificare il materiale quindi lo rendo più speculare e guardate che bel risultato otteniamo vedete che anche la parte dove è mappata la nostra texture è inserita nel materiale quindi riflette o è metallica o è più rubida eccetera come facesse parte appunto del materiale vedete ora ho aggiunto un'altra sfera sopra quella andrò a collegare l'alpha come ho fatto prima e assegnare alphaclip e vedete cosa riesco a ottenere e ovviamente cambiando i valori possiamo anche metterlo in movimento farlo ruotare e ottenere quindi texture particolari invece un altro discorso è quello di poter disegnare un oggetto in vettoriale adesso sono in Affinity Design ecco sottolineo entrambi gli oggetti e lo vado a esportare però come svg per esportazione ok vado a esportare ovviamente senza fondo esporta andiamo su file importa e andiamo su svg andiamo a ricercare il nostro documento eccolo qua lo importiamo vado a prendere lo scalo e come vedete mi sono importato il mio logo in Blender unica differenza da prima è che questo non è un disegno fisso diciamo ma qua io posso entrare in Edit e come vedete mi sono importato tutti i punti perché essendo vettoriale e quindi questo sì che lo posso modificare estrudere e è una bellissima possibilità lo devo ovviamente convertire in curve editabili perché così non è editabile quindi faccio converti to mesh come vedete ora è stato convertito faccio a e e lo posso anche estrudere e in due secondi ho ottenuto il logo 3d quindi facciamo stessa cosa per la scritta vado a selezionare i caratteri vado a convertirli entro in Edit Mode lo seleziono e e posso estrudere la scritta come vedete adesso posso anche assegnare un colore diverso e come vedete avrò tutti oggetti a sé stanti ed ecco qua quindi convertito magari un logo che era complesso in Blender e poi come abbiamo visto posso apportare qualsiasi modifica perché posso ad esempio andare a selezionare creare dei bordi arrotondati che non c'erano e fare delle operazioni come vedete fare delle operazioni appunto per andare a costruire migliorare il mio logo e non avere semplicemente un'estrusione ma andare a costruire qualcos'altro poi ovviamente se voglio limitare le facce eccetera posso fondere delle facce fra di loro per limitare il numero di poligoni bene spero che questa cosa da una parte è semplice dall'altra ovviamente tutto è semplice per chi lo conosce e vi ricordo che anch'io mi diverto a giocherellare con Blender ma non lo conosco più di tanto e quindi vi presento sempre le cose che interessano a me lavorando le cose che possono tornare più utili mettete un bel like e ci vediamo al prossimo video che sarà nuovamente quello degli shortcut ciao alla prossima ciao